Tromba d'aria questa notte a Cioffi, frazione del comune di Eboli. I rilevi compiuti sul posto dopo le forti precipitazioni che hanno interessato la Piana del Sele hanno accertato il danneggiamento dei fili dell'alta tensione e di alcune serre. A recarsi sul posto il consigliere delegato alla sicurezza Giuseppe Labrocca ed i vigili del fuoco, per un sopralluogo volto a verificare le reali condizioni dell'area. Danni ingenti anche per i residenti della zona che sono rimasti senza energia elettrica. Immediato l'avvio dei lavori per il ripristino dei guasti.